Attenzione alla zona disegnata del reticolato! Attacca il punto B! Un'altra zona disegnata del reticolato! Attenzione al riquadro disegnato del reticolato! Attenzione al riquadro disegnato del reticolato! Attenzione alla mappa! Attenzione al riquadro disegnato! Stiamo vincendo! Attacca il punto A! Attenzione alla mappa! Attenzione al riquadro disegnato del reticolato! Attenzione al riquadro disegnato del reticolato! Le forze nemiche hanno conquistato una zona. Atenzione alla mappa. Atenzione alla mappa. La vittoria è vicina. Atenzione alla mappa. 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 Atenzione alla mappa.